Patata City Buona giornata a tutti! Buona giornata, Peppa! Ed ecco il signor Patato in persona! Buongiorno a tutti e benvenuti a Patata City! La città dove la magia degli ortaggi di giornata non finisce mai! Vedrete crescere gli ortaggi e le verdure e scoprirete come riescono a mantenerci scattanti e in buona salute e poi verrete lanciati nel cielo dalla fantastica patata spaziale! Peppa e i suoi amici fanno un giro sulla patata spaziale Anche George vuole salire sulla patata spaziale Sei proprio sicuro, George? Non andrà troppo in alto? Papà Pig soffre di vertigini Su, sbrigati, papà Pig! Non ho intenzione di salirci George è troppo piccolo per andarci solo soletto Oh, ok Ma facciamo presto Oh, sarà più veloce di un lambo George ha cambiato idea George, piccolino mio, vieni qui Quasi quasi scendo anch'io Fatti via! Divertiti, papà Pig! Oh, ci siamo fermati Sono felice che sia tutto finito È divertentissimo! Sottimore! È stato molto divertente Non trovi, papino? Sì, divertentissimo Non è facile come sembra Per giocare bene a pallacanestro bisogna allenarsi molto ed essere in buona forma Tu pensi davvero di essere in forma, allenatore? Certo! Sono in ottima forma! Sicuro, papà allenatore? Tu hai un pancione enorme! Guarda che questo pancione è un ammasso di muscoli! Prima di tutto vi mostro come farà arrivare la palla da qui a qui Io sono capace! Oh, no, Danny! Non si possono usare i piedi! Non giochiamo a calcio! A Danny Cane piace molto il calcio A pallacanestro devi far ribalzare la palla con le mani In questo modo Chi prova a palleggiare? Io, io, io! Susi Pecora fa rimbalzare la palla con molta attenzione Bravissima, Susi! E ora provate tutti insieme! Tutti imparano a palleggiare E ora è il momento di insegnarvi a rubare palla Che cosa vuol dire rubare palla? Rubare palla è quando un giocatore sottrae la palla a un avversario In questo modo Prova a togliermi la palla, George George ruba molto bene la palla E ora lancia la palla nel canestro Forse hai bisogno di allenarti ancora un po', George E ora facciamo una partita amichevole Dividetevi in due squadre in numero pari Femmine contro maschi! Le femmine giocano in una squadra E i maschi nell'altra Non è giusto, però! I due piccolini sono nella nostra squadra Non ti preoccupare Noi maschi vinceremo in ogni caso Vero! Noi siamo una super squadra! Che cosa fai di bello, papino? Lavoro! Sto progettando una nuova casa Però è piccina piccina È una casetta per le fate per gli elfi? Oh no! Questo è un modellino La casa vera sarà molto, molto più grande E questo disegno ti mostra come verrà una volta finita Ti sei dimenticato una cosa importantissima Ecco fatto! Peppa ha disegnato un'altalena davanti alla casa Sì, perfetto! Vi va di visitare la nuova casa? Sì, grazie, papino! Papà Pig porta Peppa e George a visitare la casa in costruzione Eccoci arrivati Ma papà, io non vedo niente qui intorno Certamente, perché il lavoro di costruzione non è ancora cominciato Uspa! Uspa! Ecco il signor Toro e i suoi amici Il signor Toro è venuto a costruire la nuova casa Non puoi costruirla da solo, papino? Io ho fatto la parte complicata del lavoro Il signor Toro dovrà solo seguire le mie istruzioni Buongiorno, signor Pig Che cosa costruiamo oggi? Un parcheggio, una piscina o una rampa di lancio? No, una casa Potete costruirla uguale a questa, per favore? Però più grande! Il signor Pig vuole una casa Come vuole che la costruiamo? Di paglia? Di legno? Oppure di mattoni, signor Pig? Di mattoni, per favore È un'ottima scelta E non dimenticatevi l'altalena Non ti preoccupare, Peppa Sarà fatto! Vi posso aiutare? Anche George vuole aiutare Ma benissimo, George Ti dispiacerebbe mettere un mucchietto di malta in questo punto? Sai che cosa sembra? Fango un po' molliccio La malta è un tipo di fango molto, molto speciale Che serve a tenere insieme i mattoni Peppa, ti piacerebbe posare il primo mattone? Sì, grazie tante Ottimo lavoro! Il postino! Buongiorno, signor Zebra Buongiorno a lei, papà Pig Vi ho portato un po' di posta, eccola Non c'è niente per me e il mio fratellino George Ho paura di no Sono tutte per la mamma e per me Dimenticavo, c'è anche un pacco per lei Deve essere la scatola di cemento armato che ho ordinato Iii, quanti francobolli! Certo, perché quel pacco viene da molto, molto lontano Arrivederci! Arrivederci! Oh, sull'etichetta c'è scritto che è per Peppa e il piccolo George Guarda mamma, è arrivato un pacco per me e George E c'è anche una lettera Cari Peppa e George, questo regalo è per tutti e due Con affetto la vostra zietta Dotti La zia Dotti abita molto, molto lontano in un altro paese Uh, e cosa ci ha regalato? Ha quattro rotelle Macchina! Non è una macchina, George Sembrano zampe Forse un tavolo? Ma anche una coda Oh, i tavoli non hanno la coda E qui c'è anche una maniglia Ma cosa potrà mai essere? C'è qualcos'altro nella scatola È un cavallo giocattolo Lo voglio chiamare Pie veloce Cavaino Pie veloce Cavaino Ho detto pie veloce Cavaino Non litigate, ricordatevi Questo regalo della zia Dotti è per tutti e due Giocateci un po' per uno Vi divertirete moltissimo Posso giocare con pie veloce per prima Lascia giocare George per primo È il più piccolo Cavaino, cavaino A George piace giocare con cavallino George, si chiama pie veloce, ho detto E non cavallino Adesso è il turno di Peppa Io sono la principessa Peppa E lui è il mio super magico Cavallo pie veloce Che buffo suono, bravo È vero Sto andando nel negozio di strumenti musicali Per farla riparare La signora pecora La signora gatto Il signor zebra E madame gazzella Salgono sull'autobus Buongiorno Quattro biglietti per il supermercato Per favore Buongiorno madame gazzella Stiamo portando questo pesciolino dal veterinario Si sente poco bene, poverino Eh sì, ma le sta sorridendo Girano le ruote della corriera Girano, girano domani a sera Girano le ruote della corriera Fra poco arriverò Supermercato Supermercato Ciao Strumenti musicali Arrivederci Capolinea il medico veterinario Il veterinario aiuta gli animali malati a guarire Oh, è questo il pesciolino triste che non vuole mangiare? Sì, guardi anche lei Goldie mangia tutto Strano, a casa rifiutava il cibo Forse Goldie non mangiava a casa perché era annoiata Il viaggio interessante l'ha messa di buon umore evidentemente Ah Il vostro pesciolino scoppia di salute ed è molto felice È una delizia Grazie dottore Samster, arrivederci Mamma Pig, Peppa e George tornano a casa in autobus Anche il signor Toro torna a casa con la tuba aggiustata La mia tuba è come nuova, ascolta Madame Gazella e i suoi amici tornano a casa con la spesa Vedo che la piccola Goldie è di nuovo felice Eh sì, il viaggio in autobus le ha fatto tornare il buon umore Il pesciolino è sorridente e felice Sorride felice, sorride felice A Rebecca Coniglio, Zoe Zebra, Susy Pecora e Peppa piace saltare Mi piace la sabbia Mi piace il mare E insieme a Susy mi piace saltare Mi piace cantare Mi piace giocare Insieme a Zoe mi piace saltare Ideona, vediamo chi di noi riesce a saltare più a lungo senza fermarsi Qui? Conto io Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci! Ha vinto Zoe, urrà! 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 Sei qui Pedro, ti va di saltare un po' insieme a noi? No, grazie Peppa Sta giocando con l'Ula Hop Ula Hop, Ula Hop, uno, due, tre Ula Hop, Ula Hop, uno, due, tre Quanti giri riesci a farli fare senza fermarti? Un milione e trentatré! Bravo, sono un bel po' Allora, contiamoli in coro! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto! Mi hai fatti solo otto! Sì, perché sono un po' stanco, quelli che mancano li farò più tardi Tu sai giocare con l'Ula Hop, Emily? Sì, ma ho un mio stile personale Emily fa girare l'Ula Hop con la sua proboscide Urrà! Secondo me tu ne hai fatti perlomeno cento, Emily George vuole giocare a saltacavallo A George piace giocare a saltacavallo Giochiamo tutti a saltacavallo! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci Sì, c'è un guasto Per questo dobbiamo riparare la strada Secondo lei ci vorrà molto? Penso che ci vorrà il tempo che ci vuole Né più né meno Cavatice, cavatice! A George piacciono le scavatrici Da questa parte, signor rinoceronte Ok, capo! Il signor toro è il capo cantiere Signor toro, da dove viene tutta l'acqua che esce dal buco? Viene da una tubatura sotterranea, Ruth Tanto, tanto in profondità Come pensate di ripararla? Scavando una buca grossissima Bello! Chiudiamo la valvola dell'acqua George adora le gru Lagù, lagù! Togliamo la tubatura vecchia e arrugginita E ne mettiamo una nuova di zecca La ringraziamo per averci mostrato il suo lavoro No! Non c'è di che, mamma pig! Ciao! E arrivederci presto! Oh, no! George non vorrebbe andarsene Non piangere! Stiamo per arrivare al parco giochi! Potrai giocare con le scavatrici e le gru nel recinto di sabbia E ripasseremo a salutare il signor toro quando torneremo indietro La famiglia di Peppa arriva al parco giochi Buongiorno, amici miei! Ciao, Peppa! Edmond e Richard giocano nel recinto di sabbia Giochiamo nel recinto di sabbia! Ok! Perché? Che problema c'è? Come vedete ci sono dei lavori in corso e io sono il capo cantiere E quando è cominciata questa tosse? Quando Madame Gazella ha iniziato a cantare Non è assolutamente grave ma la tosse di Pedro potrebbe contagiare gli altri Che cosa significa contagiare? Quando a qualcuno viene la tosse a volte anche a chi gli è vicino viene la tosse Devo prendere una medicina? Soltanto un cucchiaino di sciroppo Purtroppo temo che non abbia un buon sapore Sa di scarpa vecchia ripiena di marmellata La ringrazio, dottor Orso Bruno Arrivederci! Arrivederci! Come immaginavo Pedro ha attaccato la tosse a tutti gli altri Danny Cane e Susi Pecora hanno preso la tosse da Pedro Apri bene la bocca Ha il sapore di uno yogurt al gusto di zerbino sporco di terra Ha il sapore dei fiori di campo quando marciscono Complimenti per aver preso senza protestare la medicina Scusi, dottor Orso Bruno ma lei non si ammala mai? No, Peppa Io non mi ammalo mai perché mangio una mela al giorno Arrivederci! Arrivederci! È ora di andare a casa I genitori sono venuti a prendere i figli Mamma, papà Io ho tanta tosse Il dottor Orso Bruno è venuto qui a scuola e ci ha visitato Ci ha dato una medicina cattivissima Madame Gazella ora può cantare quella canzone? Naturalmente, Peppa La bambola di polli è mala Oh no! Tutti gli adulti hanno preso la tosse da Pedro Sono il dottor Orso Bruno Chi parla? Io sono Peppa Pig Tutti i grandi si sono ammalati Non ti preoccupare Sto arrivando a Peppa Ma stavolta papà Pig ha dimenticato di restituire il libro L'ho tenuto per un lungo, lungo periodo Non importa Lo potrai restituire domani Ma adesso tutti a nanna Dopo che papì non ci averà letto quella storia Non è esattamente una storia, piccola mia Per favore, leggicela comunque E va bene Il meraviglioso mondo del calcestruzzo Il calcestruzzo è un materiale usato per le costruzioni Composto da sabbia, da acqua e da una miscela chimica Capitolo primo La sabbia Peppa, George e Mamma Pig si sono addormentati È mattina Peppa e la sua famiglia arrivano in biblioteca Accipicchia, ma qui ci sono un sacco di libri Peppa, bisogna fare silenzio quando si è in biblioteca Perché? Perché le persone vengono qui apposta per leggere e vogliono il silenzio Il prossimo, prego La bibliotecaria è la signora Coniglio Buongiorno, Mamma Pig È venuta a restituire quei libri? Esatto, signora Coniglio Ha fatto bene Perché il computer sta facendo quel suono? Sta controllando che non abbiate fatto i briconcelli e tenuto i libri troppo a lungo Forse io ho tenuto questo libro un po' troppo a lungo Non si preoccupi, papà Pig Non sarà poi così grave Perbacco! Papà Pig ha tenuto questo libro per ben dieci anni Papà distrattone Scusi, signora Coniglio Non ha importanza Adesso può scegliere un altro libro Signora Coniglio Giorgio e io possiamo prendere in prestito un libro, per favore? Certo! Il settore per i bambini è a vostra disposizione Guarda! Il mondo delle fate, tutti i fiori, come fare i vestitini Ciao, Peppa Pig! Ciao, ciao, Danny! È il giorno della corsa di beneficenza Madame Gazzella ha una mappa per mostrare fino a dove deve correre papà Pig Se papà Pig riesce a correre fino a qui Quello è il supermercato! E fino a qui? È la stazione di servizio di mio nonno E arriva fino a questo punto qui? È il castello ventoso Allora avremo abbastanza soldi per riparare il tetto della scuola Lo faccio immediatamente! Pronti? Ai posti? Via! Ci sono riuscito! Adesso possiamo fare il picnic Che papà buffone! Quello è soltanto un disegno! Certo! Adesso deve correre fino al vero castello ventoso Pronto? Al posto? Via! È via! 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 Coraggio papà Pig! Ce la puoi fare! Coraggio scuolabus! Ce la puoi fare! Lo scuolabus è finalmente arrivato al castello ventoso Adesso tutti possono godersi il picnic Dell'acqua! Datemi dell'acqua! Ma che splendida calda giornata! È un modo estremamente rilassante di raccogliere soldi Che non trovate? Dell'acqua! Ho tanta sete! Papà Pig ha raggiunto il supermercato Tutto questo correre gli ha fatto venire una gran sete Forza! Dai un'occhiata con il cannocchiale! Riesco a vedere papino! Con il cannocchiale si vede tutto più vicino Non sta andando molto veloce! Papà Pig è arrivato alla stazione di servizio di nonno cane Basta! Non ce la faccio più! Papà si è fermato! Sembra molto accaldato! Ha bisogno di qualcosa che la rinfreschi e che le ridia energia! Ecco, prendo un ghiacciolo! La ringrazio nonno cane! Oh no! È un po' troppo alto per George! Non ti preoccupare George! Arrivo! Ti raggiungo subito! Un altro euro, per favore! Oh! A George la paura è passata! Oh! Quanto è alto! Ho le vertigini! Quasi quasi scendo dalle scale! Ma non può! Le scale sono affollate! Si deve scendere dallo scivolo, papà Pig! Oh! Ok! Coraggio! Venite a divertirvi! Fate centro e vincerete un gigantesco peluche! Guardate! Tu sei brava a fare centro, vero? Ma non ci serve un altro peluche gigante, Peppa! Non si preoccupi! Non vincerà, mamma Pig! Tutte le donne hanno una pessima mira! Può ripetere! Non ho sentito! In questo gioco ci vuole abilità! E quanto costa tirare una freccia? Un euro! Mamma Pig ha fatto centro! Ma è incredibile! Ecco il vostro gigantesco peluche! Evviva! Voglio un peluche gigante come quello, mammina! Ma sono troppo grossi! No, non è vero! Papà Pig e George sono sulla ruota panoramica! Tenetevi forte! Ma veramente molto in alto! Sono contento che sia finita! Un euro dà diritto a cinque giri completi! Cinque giri completi! Oh no! Oh no! Coraggio! Fatevi avanti, gente! Misurate la vostra forza con il buon vecchio gioco del martello e della campana! Che cosa dobbiamo fare? Dovete colpire questo pulsante rosso con il martello! Se suona la campana vincerete un bel premio! Guardate! Non ci vuole solo abilità! Bisogna essere forti e possenti! Io ci voglio provare! Un euro per favore! Mammina! Guarda! Abbiamo sporcato di fango la maglietta da calcio di papà! Non fa niente! Vuol dire che la rilaveremo! Tornerà pulita in un attimo! E papà neanche saprà che si era sporcata di fango! Cerchiamo qualcos'altro da mettere in lavatrice! Oh! Anche il mio vestito si è un po' sporcato! Mamma Pig e George hanno trovato altre cose da lavare! Molto bravo, George! Mettiamo i panni in lavatrice e poi l'accendiamo! La lavatrice si riempie di acqua calda saponata Splash! 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 La lavatrice fa tremare tutta la cucina! Peppa! Dov'è il tuo vestito? È lì dentro! Si sta lavando! Cosa? Oh no! Guarda, Mammina! Ora il mio vestito rosso è tutto lindo e pulito! È vero, Peppa! Ma guarda cosa ha fatto a tutto il resto! Oh cielo! Il vestito rosso di Peppa ha fatto diventare rosa il bucato bianco! Il rosa non è un colore che si adatta molto ad una maglietta da calcio! Papà Pig è tornato dal lavoro Buon pomeriggio a tutti! Ciao, papino! Papà Pig, abbiamo un piccolo problema Dimelo dopo, Mamma Pig Adesso mi devo preparare per la partita! Dov'è la mia maglietta da calcio? Eccola! Non essere sciocchina, Peppa! Questo è uno dei vestiti della mamma! È rosa! Non è così, papà! Questa è la tua maglietta da calcio! Si era un po' sporcata di fango! Così l'abbiamo lavata! Ma purtroppo gli altri panni hanno stinto! Nonna Pig! Nonna Pig! Salve, tesorini miei! Scusate tanto, tornate a dormire! Raccontaci una favola, nonna! Va bene, ma solo se mi promettete che poi farete la nanna senza capricci! Ci addormenteremo appena avrai finito di raccontarcela! D'accordo! Tanto tempo fa viveva... Un poledro di nome Pedro Pony! Che aveva trovato un fagiolo magico! Oh sì! Decise di piantarlo e crebbe! Fino a diventare una pianta di fagioli enorme! Alta fino al cielo! Che bello! Pedro scalò il fusto di quella pianta e su in cima trovò... Un orribile mastodontico gigante! Ma a me non piacciono i giganti! A me piacciono le principesse! Ah, certo! Su in cima trovò la bellissima principessa Peppa! E Sir George, il prode cavaliere! E una cuoca, che sapeva cucinare le torte più buone del mondo! Mamma Pig, papà Pig e nonno Pig sono pronti per cenare! Vado a vedere cosa trattiene nonna Pig di sopra! E poi cosa succede alla principessa? Che briccona, nonna Pig! Non li hai fatti ancora addormentare? No, ma le abbiamo promesso che ci addormenteremo quando la favola sarà finita! Sono molto bravo a trovare dei finali, nonna Pig! Tu vai a tavola! Non ci metterò molto! C'era un puledro, una pianta di fagioli, una bella principessa, un cavaliere coraggioso... e una cuoca, che preparava dei dolci deliziosi! Bene! Appena finito di cenare, caddero in un sonno profondo! Fine della storia! All'improvviso si svegliarono e arrivò un potente mago! Potente mago? Sì, un mago! Che mise in scena un bellissimo spettacolo di magia! Ah, sì, ma... A questo punto della favola arriva un terrificante drago! Mamma Pig, abbiamo un ospite speciale che stasera rimane a dormire da noi! Veramente? E chi è? È Teddy Cuore d'Oro! Ha un pigiamino azzurro, un album di fotografie e uno spazzolino da denti! A cosa serve l'album fotografico? Dobbiamo riprendere Teddy Cuore d'Oro nei momenti più emozionanti della giornata! I miei compagni di scuola hanno portato Teddy Cuore d'Oro in giro per tutto il mondo! Londra, Parigi, l'Egitto... Ah, però questo Teddy Cuore d'Oro ha una vita molto emozionante! Spero proprio che si diverta nella nostra famiglia! Peppa e George vanno a nanna! Signore e signori, vi presento Teddy Cuore d'Oro! Ciao, ciao! È il nostro ospite speciale e questa sera dovrete fargli spazio! Quello è il dinosauro di George! Ringhia molto, ma non sa dire una parola! Facciamo una foto per l'album di Teddy Cuore d'Oro? Ragazzi, sorrisone! Sorrisone! Papà, vorrei tanto che Teddy Cuore d'Oro domani avesse una giornata tanto, tanto emozionante! Perché non andiamo tutti al Polo Nord? E se invece andassimo al supermercato? Sì! Non credo proprio che Teddy Cuore d'Oro sia mai andato a fare la spesa finora! È mattina! Peppa va al supermercato con Teddy Cuore d'Oro! Questo negozio vende tante cose buone! Ci sono arance, mele, frutta esotica... Bello! È un posto molto interessante! Questa è la cassa dove si paga tutto quello che si vuole acquistare! George vuole scattare una foto! Ho capito, George! Sorrisone! Sorrisone! Danny Cane è il primo cliente! Buongiorno, come va, venditore? Buongiorno, signor Cane! Posso avere un po' di biscotti, per favore? Susi, ci sono rimasti ancora dei biscotti? No! Però abbiamo un telefono giocattolo! E quanto costa questo telefono? È molto bello! Costa 100 euro, signor Cane! Molte grazie! Il prossimo, prego! Buongiorno, venditore! Potrei avere un filone di pane, per favore? No, però abbiamo una casa giocattolo! Gliela metto in un sacchetto, signore? Sì, grazie! Il costo della casa è di un euro, prego! Oh, mi dispiace, non ho portato i soldi! Può pagare la prossima volta che viene! Oh, ci picchia! È proprio un lavoro duro! Eh, già! Buongiorno, venditore! Che cosa posso comprare con mille milioni di euro, per favore? Susi! Che cosa abbiamo in negozio che costa mille milioni di euro? Una carota! Sì, va bene! Rebecca Coniglio adora le carote! È ora di tornare a casa! Papà Pig è venuto a prendere Peppa e Susi! Papà, hai avuto una giornata faticosa? Sì, ho lavorato moltissimo, Peppa! Anche noi due all'asilo abbiamo lavorato moltissimo! È vero, abbiamo fatto i venditori! Che fatica! Bla, 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 bla! Abbiamo finito! E ora stampiamo! Mamma Pig ha terminato di lavorare! Ecco qua, Giorgia! Forse adesso possiamo fare una partita gallinella felice! Ce la siamo proprio meritata! Ecco Danny Cane con il carro attrezzi arancione di nonno cane! Arancione, ho vinto anch'io! Ciao, ciao, Danny! Ciao, ciao, Peppa! Arriva un'altra macchina! Ma è Susi! Ciao! Ciao, Peppa! Boo! Giusto, George! È proprio blu quella macchina! Ora hai vinto tu! Questo gioco è bruttissimo! Non vedo neanche una macchina rossa! Non ce n'è nessuna! Sì che c'è una macchina rossa sulla strada! Dove? Di che colore è la nostra macchina piccola mia? Rossa! Ho vinto! Ho vinto! La famiglia Pig è arrivata in montagna! Non immaginate che vista fantastica avremo una volta in cima! Siamo arrivati! Evviva! Guardate che meravigliosa giornata di sole! Oh no! È cominciato a piovere! Ma dov'è la fantastica vista, papà? Eccola una fantastica vista! La signora coniglio con il carretto dei gelati! Salve, signora coniglio! Salve, papà Pig! Quattro gelati, per favore! Di quale gusto li desidera? Menta, arancia, fragola e mirtillo! Molte grazie, signora! Ecco a lei! Guardate che cosa ho qui! I gelati! E sono dei nostri colori preferiti! Proprio così! Il verde è per me! L'arancione per me! La fragola rossa è per me! E quello di George è... Buuuu! Gnom gnom! Che buono! Guardate! È ricomparso il sole! E guardate cos'altro è comparso! L'arcobaleno! Peppa e George adorano l'arcobaleno! L'arcobaleno compare soltanto quando ci sono la pioggia e il sole nello stesso momento! Oh! Ciu-ciu-tu-tu, ciu-ciu-tu-tu, il treno va su e giù! Corre, va, corre, va e presto arriverà! Attenzione! Queste sono le vostre schede! Gli alunni devono segnare sulla scheda tutto quello che vedono! Una barca, un segnale ferroviario! E una galleria! Io vedo tanti alberi! Ma quelli ci sono sulla scheda? Ehm, no! Io vedo le nuvole! E le nuvole ci sono sulla scheda? No! C'è nonno cane in barca! Sei là, ragazzi! Buona giornata, nonno cane! Ma nonno cane c'è sulla scheda? Ma che dici, Peppa? Nonno cane non c'è sulla scheda, non lo vedo! È al timone di una barca, però! E la barca sì che c'è sulla scheda! Hurra! Tutti spuntano la barca sulla scheda! Biglietti, per favore! Il signor coniglio controlla i biglietti ai passeggeri! Penso di aver perso il mio biglietto! Oh, ma che sfortuna! Il tuo biglietto è qui sul sedile, Pedro! Ti ci hai riseduto sopra! Mi raccomando, non perderlo di nuovo, Pedro Pony! Il treno sale lentamente sulla collina Il treno scende rapidamente dalla collina Signora maestra, mi scusi, non mi sento bene Posso sedermi davanti, per favore? Ma certo, Pedro! Puoi sistemarti vicino al macchinista! Buongiorno, Pedro Pony! Che c'è? Non ti senti bene, poverino? Ti andrebbe di guidare il treno per un po'? Sì, grazie! Vi mostro la stanza dove dormirete stanotte! Questa è la cameretta della mamma Quando era piccolina come voi Tanto, tanto tempo fa! E questo è il lettino dove dormiva tutte le notti Uh, il letto con le molle! Siete proprio come la vostra mamma Quando era piccola Anche la mamma faceva i salti sul letto? Certo, come no? Ma la mamma ci sgrida sempre Quando iniziamo a saltare sul letto Quando la mamma aveva la vostra età Era birichina proprio come voi Davvero? Sì! E adesso andiamo a fare due chiacchiere Con nonno Pig in giardino Ciao, nonno Pig! Ciao, nonno Ig! Buongiorno, Peppa! Buongiorno, George! Venite a vedere le mie belle carotine Nonno Pig è molto fiero dei suoi ortaggi E da questa parte i miei pisellini Ma la verdura migliore è la lattughina verde Oh no! La mia lattughina verde! Sai, nonnino, credo proprio che quegli uccellini Se la siano mangiata Sì, pennuti Come mai il tuo spaventapasseri non ha riuscito a spaventarli? Perché i pennuti che mangiano la lattughina verde del mio orto Sono troppo intelligenti per spaventarsi Che cosa blatteri, nonno Pig? I tuoi amici hanno mangiato un'altra volta tutta la verdura del mio orto Amici? Quali amici? Tom, Dick e Harrison Ma no, non si chiamano così Nonna Pig ha delle gallinelle Carine! Allora, vi presento Giuditta, Sara e Vanessa, tesorucci Ciao! E lui si chiama Neville Neville è una gallina maschio, vero, nonna? Sì, Peppa, ma si dice galletto È proprio un cattivone Ha distrutto lui tutte le mie verdure Neville non farebbe male a una mosca Sai benissimo che se le mangiano le mosche Papà, ti posso aiutare? Sì, grazie, Peppa Puoi buttare tutte queste bucce delle verdure Va bene! Ferma, Peppa Le bucce delle verdure non vanno nel secchio normale Vanno in quel secchio là, quello marrone Oh, nonna! Proprio così, George Quella è una buccia di banana E lì dentro ci sono anche cipolle, carote E tutti gli avanzi di ogni tipo di frutta e verdura Il nonno e la nonna ne saranno felici Perché a nonno Pig e a nonna Pig piace mangiare le bucce delle verdure? No, Peppa Sono per il giardino del nonno Aiutano le piante a crescere bene Oh! Potremmo portarlele subito dopo pranzo Oh, che bello! Mamma Pig, Peppa e George portano le bucce delle verdure a casa di nonno e nonna Pig Siamo arrivati! Evviva! Nonno Pig! Nonno Ig! Abbiamo portato un regalo specialissimo per te Ah, ma quante bucce di verdura! Che cosa fantastica! Al mio giardino piaceranno moltissimo Perché il tuo giardino mangia le verdure, nonno? Niente affatto, Peppa Tutte queste bucce andranno a finire nel mio mucchio di concime organico Oh, e che cos'è? Adesso ti faccio vedere Eccolo qui! Ma questa è una scatola di legno! Esatto, Peppa! Ma questa è una scatola di legno molto intelligente! Metto tutte queste bucce qui in cima E dal fondo si vedrà uscire una deliziosa terra molto ricca chiamata concime organico E come fa a farlo? È una scatola magica per caso? No, cara Peppa! Ho tanti piccoli amici che le danno una mano in questo lavoro Dove? Sono qui dentro! Guarda! Oh, ci sono tanti verbi! Vemmi! Vemmi! Dinosauro! Dinosauro! Ciao, Richard! Torno a prenderti tra un po'! Divertiti, piccolo mio! George e Richard Coniglio sono amici del cuore George! Richard, fermi! Guardate, avete buttato giù tutto! Non potete giocare senza far tremare il pavimento? George trasforma il cesto dei giocattoli in un vulcano Richard usa gli alberi giocattolo per creare una giungla George usa i cubi dell'alfabeto per fare un fiume Dinosauro! George e Richard hanno trasformato la stanza nella terra dei dinosauri Io me ne vado! Basta! Voi fate troppo chiaro! Io dico patato! Io dico patata! Patato! Patata! Il lato positivo delle giornate piovose è che possiamo guardare degli istruttivi programmi in tv Patato! Patata! Patato! Patata! Mammina! George e Richard hanno trasformato la nostra camera nella terra dei dinosauri e la terra dei dinosauri purtroppo è rumorosissima George ha fatto venire il suo amico del cuore invece io non ho nessuno con cui giocare Potresti chiedere a Susy Pecora di venire da te? Susy Pecora è la migliore amica di Peppa Davvero? Susy Pecora può venire a casa nostra? Proviamo a chiamarla Pronto? Sono Susy Pecora! Chi è? Ciao Susy! Sono Peppa! Potresti venire a casa mia adesso? Certo Peppa! Posso mettermi il camice da infermiera? Sì! Ma vieni più in fretta che puoi! Siete tutti pronti per andare in vacanza? Sì! Mamma Pink! E allora via! Ce ne andiamo in vacanza con un camper giallo! Questa cartina è un po' complicata Papà! Cerchiamo di non perderci per favore! Non ti preoccupare Peppa! Sono esperto nel leggere le cartine! Oh! Questo sì che è strano! Ci siamo persi? Eh! Proprio così! Arriva nonno cane con il nipotino Danny! Ciao Peppa! Oh! Ciao Danny! Ci siamo persi! Persi? Vi si è rotto il navigatore? Come il navigatore? Certo! Quello che lei sta guidando è un camper 320! È un modello col navigatore di serie! Benvenuti nella macchina del futuro! Ah! Ecco a che cosa serviva quel pulsante! Dove volete andare oggi? Ma papino, il camper sta parlando! Ingegnoso, vero? La voce del computer aiuta a trovare la strada! Ma il computer come fa a sapere dove vogliamo andare? Le lo indichi tu! Eh! Buongiorno, signora voce del camper! Buongiorno! Noi stiamo andando in vacanza! Ci può dire la strada? Procedere sempre dritti sulla strada che state percorrendo! Grazie per l'aiuto, nonno cane! Non c'è di che! Divertitevi in vacanza! C'è ne andiamo in vacanza con un camper giallo! Pericolo! Pericolo! Il livello dell'olio è basso! Cos'è l'olio? L'olio aiuta il motore a girare senza difficoltà! E se il livello è basso vuol dire che sta per finire? No! Questi allarmi ti avvisano sempre con largo anticipo! L'olio è terminato! Oh, cielo! Sì, sì, sì!